Costituire una società a un euro con uno più soci è possibile. Grazie infatti al cosiddetto decreto Crescitalia emanato dal governo Monti, nascono due nuove tipologie di società a responsabilità limitata per incentivare l'attività imprenditoriale, con particolare attenzione ai giovani. Camera di Commercio di Firenze fornisce un servizio di consulenza e supporto. Nel nostro ordinamento abbiamo tre tipologie di società a responsabilità limitata, perché è una delle forme più flessibili dal punto di vista dell'impresa. Abbiamo la SRL ordinaria, dopodiché il primo provvedimento convertito in legge ha inserito il 2463 bis del Codice Civile sulla cosiddetta società a responsabilità limitata semplificata. Successivamente è stata introdotta un'altra tipologia, che è la società a responsabilità limitata a capitale ridotto. Queste società sono accomunate sostanzialmente dall'essere, dalla possibilità di avere un capitale che va da un euro fino a 9.999 euro, perché sappiamo che il capitale minimo della SRL ordinaria è altresì di 10.000 euro. Però non sono uguali. La semplificata è una società più rigida, uno schema più rigido rispetto di quella a capitale ridotto. In buona sostanza la semplificata è riferibile solo agli under 35. Viceversa la società a capitale ridotto è un tipo più flessibile, però riservata esclusivamente a coloro che avessero compiuto i 35 anni di età. L'interesse c'è e abbiamo anche dei numeri e delle attività che ad oggi possono essere interessanti, soprattutto per i giovani. Gli uffici del registro delle imprese hanno fornito ora dei dati che sono estremamente recenti. A fine mese, a fine novembre, ci sono 41 semplificate, quelle degli under 35, e 29 a capitale ridotto. Le attività delle SRL semplificate, quelle principali, sono bar, acconciature, riparazione di macchine, attrezzature per movimento terra e macchine agricole, commercio al dettaglio, fabbricazione di calzature, commercio all'ingrosso, attività di servizi nel settore edilizio anche attraverso la predisposizione di supporti tecnico-contabili e accesso presso uffici catastali e uffici pubblici in genere. Consulenza commerciale, ecco, invece quelle delle SRL a capitale ridotto, sempre settore del bar, consulenza strutture ricettive e turistiche, consulenza imprenditoriale e amministrativa, fabbricazione cinture, vendita porta a porta di abbigliamento, produzione di software non connesso all'edizione.